Salve ragazzi, come sempre Daniel della Mondotech Dono Oggi sono qui e voglio spiegarvi una bellissima cosa che ho scoperto da poco Come ben sapete io registro l'audio separatamente dal video Come le precedenti volte vi ho spiegato, in questo momento sto registrando l'audio con questo microfono qui Perché faccio questo? Perché l'audio registrato dalla Reflex con il microfono incorporato fa schifo E quindi ho dovuto trovare una soluzione a tutto ciò E per fare questo comunque ci sono dei passaggi, poi bisogna sincronizzare l'audio con il video E appunto per questo ho deciso di spiegarvi una bellissima cosa Perché ho scoperto un programma che sincronizza tutto, fa tutto da solo Magia proprio, tra poco ve lo spiegherò Allora ragazzi come detto prima non è magia ma è un programma che va in estensione con Adobe Premiere E con altri programmi di video editing Vorrei dirvi che chi cazzo l'ha inventato comunque ha fatto una bellissima cosa Perché vi fa risparmiare ore ed ore a sincronizzare l'audio con il video Chi fa come me o chi fa video musicali ad esempio comunque vi è molto utile Questo programma qui si chiama Pluralize E può funzionare sia da solo che in estensione con Adobe Premiere, Final Cut Pro X della Mac e cose varie Comunque con programmi di questo genere E tra poco vorrei mostrarvi un po' come funziona tutto Allora adesso che siamo sul pc Ovviamente dobbiamo andare ad aprire Adobe Premiere Per poi inserire un video, ne prendo uno a caso Scollego l'audio dal video in modo che posso muoverlo come voglio Posso mandarlo in fuori sync Così vi faccio vedere che il programma vi mette in sync da solo Ok, bisogna andare qui Ok Poi bisogna aprire il programma Pluralize E ovviamente cliccare sync giù E come vedete il programma vi è inserito L'audio perfettamente sincronizzato con il video Questo programma individua Diciamo il video che voi registrate con una reflex Con il microfono incorporato Lo compara con l'audio registrato con il microfono In questo caso mio a condensatore E così può prendere un punto di riferimento e metterlo a sync Allora ragazzi Spero vi sia stato utile questo piccolo tutorial Comunque è molto utile A me mi è stato molto utile scoprire questo programma Perché ogni volta io dovevo stare lì a sincronizzare 4-5 Anzi pure 20 a volte Spezzettoni di video Visto che faccio montaggi video musicali E quindi Guarda è proprio utile Che dire Mettete mi piace se vi è piaciuto questo tutorial E seguite sempre il mio canale Mondotech Dono Page Yeah Oh scusa ragazzi Eh dimenticavo Prima che finisce questo video Volevo farvi una notazione Visto che è successo molte volte Uff Nei video potete mettere una bella canzone come questa Vedi una bella sinfonia Però Attenzione Fate sempre attenzione ai livelli I livelli del volume Non vorrei che devo urlare come sto facendo adesso con questo Perché non mi sento Viene tutto distorto Capito Arrivederci Ciao 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 Grazie a tutti.